Un incendio di vaste proporzioni ha interessato Palombaro, comune in provincia di Chieti, a 536 metri di quota sulla Maiella. In mattinata il vento ha fatto cadere alcuni pali della luce con conseguente cortocircuito che ha poi generato un incendio. Per domare le fiamme, vigi del fuoco, carabinieri forestali e protezione civile hanno lavorato per ore. È stato anche necessario l'intervento di un Canadair che ha dovuto effettuare quattro voli in quanto la zona impervia è circondata da boschi. Il sindaco, Consuelo Di Martino, ha dovuto emettere un'ordinanza di evacuazione per la casa di riposo del paese, dove sono state ospitate 18 persone e per un'abitazione entrambe in un edificio minacciato dal fuoco. Il forte vento ha provocato un incendio anche a località a Betemozzo di Torricella Sicura. Le fiamme sono divampate anche in questo caso, in un'ampia zona difficilmente raggiungibile e per questo è stato richiesto il supporto di un Canadair. Paura a Cugnoli, paesino del Pescarese, per un incendio che si è sviluppato nelle campagne e che a causa del forte vento si è avvicinato al centro abitato e all'ambito alcune abitazioni, interessando anche giardini privati. L'incendio è stato domato dai vigi del fuoco e la situazione è tornata sotto controllo. A Scafa le violente raffiche di vento hanno provocato la caduta di un grosso pino precipitato su tre auto, all'interno di una delle quali c'era un uomo. Per lui, per fortuna, ha solo tanta paura e lievi ferite. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.